Partiamo come è stata la squadra? La squadra sta bene, anche se abbiamo subito una sconfitta pesante a Perugia, però per 80 minuti la squadra mi è piaciuta, poi 11 contro 9, 40 minuti è stata difficile, partiamo da quegli 80 minuti, continuiamo a migliorare sotto l'aspetto tecnico-tattico e anche di preparazione per arrivare al campionato in ottime condizioni, quindi manca una settimana però i ragazzi stanno migliorando e questo è l'aspetto positivo. Cerchiamo di fare più presto dei punti per eliminare la penalizzazione, quindi dobbiamo partire forte, una squadra con grande motivazione e vogliosa di far bene e questo che poi mi aspetto io ma credo anche i tifosi.